Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La figlia di Lorella Cuccarini, Chiara Capitta, ha recentemente condiviso su Instagram una storia in cui viene baciata da un'altra ragazza, alimentando così i rumors sulla sua presunta compagna. Nonostante il mistero sull'identità della ragazza, i fan interpretano l'immagine come conferma di una relazione. Lorella Cuccarini, che ha dichiarato la sua omosessualità un anno fa, sembra voler mantenere riservatezza sul tema. Chiara può contare sul sostegno incondizionato della madre, che ha sempre sostenuto la felicità dei suoi figli, indipendentemente dall'orientamento sessuale. L'educatrice del programma Amici di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, è rimasta sorpresa dall'impatto mediatico del coming out di sua figlia Chiara, considerando che dovrebbe essere un evento ordinario. Un anno fa, Chiara condivise il suo percorso di lotta contro gli attacchi di panico, ricevendo supporto da coloro che si identificavano con la sua situazione. Chiara ha scelto di parlare apertamente della sua esperienza per sostenere coloro che affrontano sfide simili e hanno difficoltà a parlarne a causa della paura. Nonostante la riservatezza sull'identità della sua compagna, sembra che la giovane stia cercando di introdurla alla sua base di seguaci. Resta da vedere se presto Chiara farà luce sull'identità della sua... Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!